Sfida salvezza qui domani al Bonolis con il Teramo che ospiterà il Gubbio a conclusione di tre impegni in una settimana per la formazione di Asta. Ed Asta che sta pensando a rendere il Teramo un po' più offensivo per la sfida di domani. Dalle indicazioni della vigilia infatti i biancorossi dovrebbero essere in campo con un 3-4-3 con Bacio Terracino, Tulli e Foggia il tridente d'attacco. Amadio a centrocampo dovrebbe vincere il ballottaggio con Ilari mentre Caidi è recuperato e dovrebbe giocare titolare. Mi piace pensare che i numeri sono una cosa e poi l'interpretazione del giocatore in base a quella situazione cerco sempre di mettere, cerco perché alle volte non sempre mi riesce anche a me perché sbaglio anch'io, alle volte di mettere quel giocatore nelle migliori posizioni indipendentemente del sistema di gioco. Per esempio mercoledì De Grazia lì era una mano mi doveva dare in fase difensiva, ha fatto un po' fatica, poi l'ho messo davanti alle volte. Però cerco possibilmente di sbagliarmi, tra virgolette, meno possibile non pensando al sistema di gioco, ma avendo l'equilibrio, quindi è quello che farò anche domani. Può darsi, può darsi che cercheremo di essere, ma non offensivi mettendo più attaccanti, che lo sappiamo bene, ma non vuol dire mettere più attaccanti. Una squadra che qualche giocatore è un po' più libero di esprimersi in fase offensiva. Gubbio che è a riduce da due sconfitte consecutive, che cercherà il riscatto per l'appunto qui domani al Bonolis, ma Asta che dal canto suo aspetta ancora quella gara e si augura ovviamente che possa essere domani, che possa accendere la classifica, tra virgolette, del termo e a dare un pochino più di tranquillità ai suoi biancorossi. Sto aspettando veramente quella gara, quella gara, non so quale sarà, io spero al più presto possibile, che ci permetta veramente di vincerla e far quello che vi ho detto io, la libertà mentale che anche questi ragazzi gli riescono più cose. È logico che i parigini tutto sommato ti mantengono lì per fare quella cosa, perché non ti fanno fare grandi cose, però onestamente come sappiamo, non ci torniamo indietro, ti fanno sempre stare in un posto equilibrato e va bene perché non perdi e porti i punti, però quella vittoria ci manca, però non so quando, io spero il prima possibile, non so se domani, l'altra domenica o quello che sarà, però voglio che i ragazzi lo sanno e devono pensare che domani non deve essere quella partita per forza, così no, 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 assolutamente perché questa squadra che affrontiamo, una squadra che verrà qua arroccata, parte in contropiede e se noi pensiamo di attaccare in molti possiamo fare il loro gioco. E se pensiamo a confronto dello scorso anno, sì, Ferretti non c'è più, però non è che ha cambiato tantissimo, qui dobbiamo stare molto attenti che è una squadra di categoria, arriveranno qui, insomma, affamati di punti, però noi vorremmo veramente cercare più che mai dare una gioia ai nostri tifosi con i tre punti, ci proveremo come abbiamo sempre fatto.